ciao amiche amici bianco celesti eccoci qua finalmente a riparlare di calcio giocato se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi al canale chiaramente sono sempre lieto di rispondere ai vostri commenti alle vostre considerazioni mettiamo da parte tutto quello che è successo fino ad oggi perché bisogna pensare alla squadra alla nostra lazio stare accanto ai ragazzi anche al mister ovviamente dopo le peripezie e le vicissitudini di questa finestra di mercato ormai tutti conosciamo quindi non c'è bisogno di ribadirle assolutamente questo è chiaro non perdiamo ulteriormente tempo a sprecar parole per chi nemmeno si degna di darci una risposta pubblica ecco domani a firenze si va a firenze partita serale anticipo serale del sabato alle 20 e 45 è una partita ovviamente difficilissima la fiorentina d'italiano sappiamo bene che ha creato problemi a molte squadre sta facendo un cammino secondo me molto molto interessante in prospettiva io credo che potremmo rivedere finalmente quella fiorentina delle famose sette sorelle degli anni 2000 molto presto il che onestamente a me fa piacere al di là di tutto insomma al di là della rivalità che domani dovremo mettere in campo insomma è una fiorentina che grazie italiano insomma ha trovato una sua identità se vogliamo nonostante qualche qualche sgambetto qualche debacle che può capitare a tutti quindi per carità però insomma una discreta continuità è stata trovata da italiano e dal suo 433 che solitamente adatta con i viola e adotta scusate con i viola è un gioco molto rapido quello di italiano no comunque cerca di impostare subito la partita ad alti ritmi ad alti ritmi sfruttando soprattutto il chiamiamolo playmaker perché no torreira che è abile come sapete sia in come distruttore che costruttore quindi secondo me quello sarà un ruolo chiave da dover arginare il più possibile sempre mia opinione ragazzi tutto quello che dico ovviamente mia opinione no perché ultimamente ho sentito dire anche gli youtuber parlano troppo di cose che non riguardano loro però insomma io credo che se stiamo qua qualcosa da dire anche da tifosi vada detta comunque fiorentina senza vlaovic non lasciamoci ingannare da questo particolare perché la fiorentina sarà anche senza vlaovic ma comunque ha fatto molti acquisti in questa finestra di gennaio e ha secondo me credo insomma sostituito nel modo migliore quello che è il capocannoniere insieme a ciro immobile della serie a ovvero con cabral cabral che quantomeno al basilea insomma ha fatto vedere già grandi cose ora sarà tutto da dimostrare se nel campionato italiano riuscirà avere un buon rendimento comunque a non far rimpiangere vlaovic però non ci rilassiamo di fronte a questa partenza del compagno rinazionale di milinkovic assolutamente quindi i ritmi alti vanno sicuramente spezzati sempre a mio modo di vedere con un pressing asfissiante bisogna rubare palla il prima possibile aggredire sostanzialmente l'avversario in modo da non fargli costruire le le azioni offensive che spesso si sfruttano diciamo la superiorità numerica sulle fasce tra delle mezzali e degli esterni che però nel caso nostro avendo due modi moduli speculari è una partita che si gioca totalmente alla pari volendo anche come scacchiere tattico dico prettamente tattico quindi insomma dobbiamo trovare un equilibrio come abbiamo trovato effettivamente nelle ultime nelle ultime uscite della lazio a livello tattico a livello di compattezza c'è stato un determinato equilibrio e va sfruttato va gli va data continuità a questo equilibrio non so ancora quali saranno le formazioni schierate dai due allenatori domani sicuramente non ci sarà cerbi tra tra le nostre tra le nostre fila dovrebbe rientrare invece luis felipe quasi al cento per cento e che ha diffidato attenzione a questa cosa perché luis felipe finora ha preso nove cartellini gialli e un espulsione se consideriamo abbiamo giocato ventitré o ventiquattro partite ora non mi ricordo precisamente siamo su una media che va quasi a un ammunizione ogni due partite il che prestiamo attenzione per la casalinga di contro il bologna poi gli esterni gli esterni pedro in dubbio soprattutto sugli esterni offensivi che ha recuperato sì però forse è rischioso giocarselo subito e quindi ipotizzerei un un tridente con zaccagni immobile e felipe anderson con un subentro del nuovo acquisto giovani cabral che speriamo insomma nonostante il mercato non ci abbia soddisfatto speriamo di aver trovato un buon talento ora non so veramente se nemmeno se verrà convocato onestamente non so nemmeno se è infortunato perché a quanto pare ha la fama di essere sempre infortunato comunque diciamo che l'undici titolare non sarà diverso da quello visto nell'ultima partita sostanzialmente ad esclusione ovviamente di cataldi forse dovrebbe esserci anche se anche se e qui mi rifaccio a quello che ha detto manuel nel suo video oggi forse alla sua web tv secondo me lei va sarebbe una scelta migliore per come dovremmo affrontare la partita vedremo ovviamente sarri insomma ci 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 tiene sempre un po sul sul filo no rilascia le formazioni veramente a pochi minuti dall'inizio della partita e non ci fa mai trapelare niente com'è giusto che sia ovviamente dentro immobile ovviamente lui ha recuperato aveva preso una contusione al ginocchio ma tutto rientrato assolutamente per quanto riguarda la fiorentina credo che cabral sarà la punta titolare con piontech pronto a subentrare eventualmente ora sono sempre supposizioni comunque noi domani dobbiamo assolutamente spazzare via tutto questo mese indecente che ci siamo portati dietro soprattutto con una ottima prestazione quindi io spero veramente vivamente che i ragazzi non abbiano risentito di tutto il clima di tutto il clima che si è andato a creare all'esterno poi al di là del fatto che il presidente smentisce sarri non è scontento uno ci può credo meno insomma io onestamente penso che anche oronzo canà sarebbe scontento del mercato del genere o del trattamento poi perché ragazzi sottolineiamolo ieri si è protestato ma non è solo il mercato il problema e lo sappiamo bene non non andiamo a rispecificare quello che sappiamo già da 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 tanto tempo quindi sono contento e si torna a giocare domani ovviamente ci sarà appuntamento un ricco palinsesto sul laziolive.tv ci sarà il pre partita di laziali senza tempo poi la diretta di forza lazio web tv e la mia post partita la mia diretta dove come al solito ospiterò tutti gli altri canali che vorranno partecipare quindi basta non vi dico altro non vi rubo altro tempo forza lazio forza aquile come sempre soprattutto in questo periodo ci vediamo domani ragazzi dai mi raccomando ciao ciao Grazie a tutti.